vedi che cazzo mi ha bloccato non è stato neanche il davanti guarda la gomma un sasso cazzo ma si è proprio bloccato dentro ma porco dio ma se può figa caccelo dentro caccelo dentro in alto e dopo lo usciti dentro sotto sennò che passa mia ma pensa a te o ma porco dio ma quella lì è la prima volta che succede una roba del genere cioè anch'io ho pensato quello invece va che cazzo c'è dentro ma pensa a te o ma minchia guarda come è grosso è giù fino al cerchio ma puttana eva ma roba da non credere cazzo roba cioè questa è proprio la prima volta che mi succede una roba simile cioè è andata dentro tra il tra il mono e il coso ma porco diavolo ma solo a me mi può succedere una roba del genere crispa ma pensa un po va bene va bene a posto pensa un po cazzo vabbè succede e c'è è per quello cazzo si è spenta perché si è bloccata quindi e quindi